Ciao! Oggi vi proponiamo un gioco teatrale che vi aiuti a sviluppare la vostra espressività, cioè la vostra capacità di esprimere con efficacia le vostre emozioni, i vostri sentimenti e i vostri stati d'animo. Per voi abbiamo scelto quattro emozioni primarie che noi dobbiamo provare ad esprimere utilizzando soltanto le espressioni del nostro viso. Ora io vi darò una mia interpretazione, voi potete cominciare a imitarmi e poi a divertirvi a cercare il vostro modo di esprimere ogni singola emozione. Siete pronti? Cominciamo! Rabbia! Gioia! Tristezza! Paura! Bene, ora proviamo a fare la stessa cosa utilizzando una frase. La frase che ho scelto per voi è sento come suona la mia voce. Anche in questo caso io vi do una mia interpretazione. Voi cominciate prendendo spunto da me e poi divertitevi a trovare il vostro modo, d'accordo? Siete pronti? Cominciamo! Rabbia! Gioia! Sento come suona la mia voce. Gioia! Sento come suona la mia voce. Tristezza! Sento come suona la mia voce. Sento come suona la mia voce. Sento come suona la mia voce. Bene, noi per oggi abbiamo finito. Vi abbiamo proposto però soltanto quattro emozioni. Ma in realtà ce ne sono tantissime. Quindi voi potete chiedere aiuto ai vostri genitori, cercarle e divertirvi insieme a loro. Ciao! 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 Ciao!